Ne vuoi ancora? Grazie, un pochino. Mike mi aveva promesso di non farlo più. Forse lo pensava quando l'ha detto. Dai a me, siediti. Rilassati un po'. Sarà così arrabbiato con me. Perché dovrebbe essere arrabbiato? Perché sono in questo pasticcio con mamma e papà, con Ian. Se non fosse stato per me, Mike avrebbe avuto più attenzioni. No, no, credimi, non è colpa tua se si comporta così. Come lo sai? Conosco il senso di colpa ingiustificato. Senti, la gravità del problema di Mike dipende da quante volte lo ha fatto. Tu sai in quanti posti si è introdotto di nascosto? Perché dovrebbe avercela con te? Non lo so. Mike!